Ciao a tutti da Svideo, siamo qui su quella di utile di Avanzo Warfare, la campagna, con la nuova missione. Benvenuto al vitroi! Grazie! Due milioni e mezzo di persone accampate così. Non è una vacanza, ma hanno cibo, acqua e sono al sicuro, tutto grazie ad Atlas. Il KVA si mette a rompere i coglioni. Cazzo! Quattro anni dopo. Andiamo... Parlo ancora? Ricevuto. Questa gente doveva tornare a casa il mese prossimo. Invece l'arrivo del KVA ha bloccato tutto. Proteggono il bersaglio. Ce l'abbiamo ancora. Il dottor Pierre Darnois, nell'ospedale in centro. Abbiamolo ok. Quattro anni a inseguire Hades e ci troviamo al suo braccio destro sulla porta di casa. Fa un culo. Beh, ma lasciamo riandare, perché... Prima... Sapete che io devo controllare tutto, no? Non siete in grado di ricercitazione. Non si può saltare? Uffa! Devo ispezionare tutto io. Da bravo avventuriero. Infatti questa qua si è... Non è una vera avventura. Allora, ciao Stanfly! Salutiamo tutti che siamo educati. Ciao Sheffield! Ciao Strickland! Ciao Huck! Capitano Huck! C'è l'uncino? No, non c'è l'uncino. C'ha le mani normali, sembra. E ciao Hegberg! Anita Hegberg! Dai, alla fontana! Marcello! Come here! Ciao! Un po' stanchino questo pacco. Un po' anche... un po' tristo. Chang, probabilmente di nazionalità orientale. Qua si entra? Ci sono delle facce qui, va bene. Interessante. Qui c'è... Carontenuto potrebbe essere italiano. Carontenuto. Ma che nome? Anguille? Molto un po' African. Che? Che? Si può entrare qua? Oh, ma non si può saltare. Ma per... Perché non posso saltare? Come non voglio, dappertutto. Dai, seguiamo, dai. Ricordate, un pacco per settore. Un pacco per settore, ok. Allora, Gideon e Joker, non parlate più? Che c'è la? Oh, oh, sicurati. Progress, 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 progress. Allora, non parlano più, stanno zitti. Cioè, prima parlavate tanto, tanto. Adesso state zitti. Questi giocano con la palla. P-p-p-palla. Eh, gioco una baseball. Dai, dai, vediamo come ve l'ha lanciato. Dai, dai, tira, tiragliela indietro. Dai, dai, vediamo, vediamo se sei bravo. Eh, sì, sì, sì. Guarda, lei non l'hai neanche presa. Dai, fai un bel lancio stavolta. Dai, dai. Ah, niente. Sembra uguale a quello di prima. Vediamo, vediamo se la perdi ancora. Voglio vedere se stavolta la prendi. Voglio vedere... Ha l'ha presa stavolta. Eh, dai, sta migliorando. Comunque, vabbè. Direi di... Scansione isotopi in corso. Attendere. Isotopi! Che cazzo ci fa il capovuadino? Ha detto cazzo. È una città fantasma. Il luogo ideale per nascondere qualcosa. O qualcuno. Ok. Buona fortuna. Grazie. Good luck. Usa. Ghideon. Torres. Pronti? Pronti. Le moto aspettano solo noi. Ma la Torres è quella di Dresanatomi. No, la moto d'acqua. Non mi dire, non mi dire. No. No. Ho capito qual è. Ho visto, ho visto Ev. Ev 115 in live che faceva questa parte di video. Ma non ci riuscirò mai. Ma non ci riuscirò mai. Vabbè, dai, proviamo. È difficilissimo sta parte. E vai in automatico. C'è l'automatico? Ok. C'è l'automatico? è gigante, eh? Che mos videogame 74. Aspetta. Cosa vuoi te? Cosa vuoi? Ho quattro operativi su moto. Numero ordine 5527. Boom. Ok. Verificato. Aprire. Aprire, 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 aprire. Aprire dolce dormire. Prima mi volevo mettere le cuffie, ma mi danno fastidio le orecchie, allora ragazzi. Poi c'è il microfono da tavolo che si è rotta una zampa. C'è veramente, c'è sempre dei casini con l'hardware. Stiamo attenti alla storia, perché qua la gente parla e io ci parlo sopra. Vabbè che adesso stiamo, vabbè, non sto muovendo la moto. Se io anche provo a schiacciare a destra e a sinistra, non fa nulla. Se mi fate fare qualcosa, allora forse è dopo, allora è dopo che si usa la moto, che è difficile. Qua non ho fatto niente con la moto. Dunque, vediamo qua. Nord-Ovest, segui, segui. Se... Dove sei? Ah, è là. Com'è fatto a salire? Ciao. Guarda, controllavo se sparava. Va bene, non sparo. Controllavo se sparava ancora. Chi ha vinto tutte queste coppe? Attraversiamo la scuola. Eh, una scuola. No, le scuole, le scuole sono piene di zombie di solito. Non succede niente. Dove? Segui. Cos'hai fatto? Dove c'è? Si è fatto male a una caviglia? Dai, apri. Dai, 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 e vai. Questa atmosfera, c'è sto silenzio, ma non mi convince. Vedo della gente morta. Cadavri, squadra di bonifica, mancano le scuole. Tutti i bersagli in tuta vanno considerati ostili. Ok. Ok. Se i KV hanno degli infiltrati, potrebbero essere più numerosi del previsto. Mitchell, la porta. La porta, ok. Ah, io? Va bene. La porta, Mitchell. Va bene. Sto schiacciando F. Ah, non ero abbastanza vicino. Che c'è? Eh, vabbè, sotto alle scale. Vado io? Ma sempre io devo andare davanti. Salvo ancora? Ah, qua c'era quello che camminava lentissimo. Me lo ricordo dal video di Ev. Video, poi l'ha fatto in live. Dai, dai, sali! L'uomo più lento del mondo. E sali queste scale. Sali. 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 È un tecchinato così. Eh, fai un po' certo. Rasi, rasi. Uuuuuh. Che mi fai fare anche il parkour? Ho già capito, te. Ti ho già capito. E che? Eh, che è stato? Un topo gigante. Un epoconiglio. È stato un epoconiglio. C'è gente. Sssssh. Silenzio. Silenzio che sta passando. Della gente lì sotto. Possiamo andare adesso? E muoviti. Au! Non si muove, ragazzi. Che devo fare? Eh, segui. E vai. Ma puoi andare avanti? Eh, mamma mia. Eh, mamma mia. Eh, dai. E vai. E vai. Perché? Eh. E adesso? Che sfiga. Eh, sì. Eh, allora. Ma che schifo, ma cosa sto pestando? Non tanto! E dove ce l'ho io da sparare? Che se ti stavo la faccio? Che fai? Che cosa vado? Che cosa vado? Scappa, scappa, scappa Scappa, scappa, scappa Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto Di gran manichino qua Dove passa? C'è giro di qua? Aiuto Aiuto Rispondi, rispondi Eh, rispondi, rispondi Aiuto Ok Sono fuori Sei fuori in fondo alle scale, ok Dove sei? Nuovo a terra Di mondo Ah no, Didone è lì Cani, i cani no I cani no, 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 i cani no No, no, no Dov'è? 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 Aiuto Ma che cavolo con vino Ma che casino Poi c'è pure la nebbia Ma che è Ma c'è ancora il cagnaccio Morto questo cane Sì Il cane è morto Hai muto Da qui non lo vedo Perché non vedi Non è nata intelligente Parlami Ok Allora Gideon Dai Gideon No 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 Aiuto Dai saliamo 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 Dai Gideon dove sei? Gideon dai Aiutami Dammi la mano Fai col colo Avanzare Avanzare Oh granata Prendi Eh quanti ce n'è Cavolo Aiuto Granata Granata Come c'è qua dietro? Medico Serve un medico Eh medico Trovatelo Aiuto Che succede? Che succede? Nooo Che succede? Che succede? Diretto a D-Device present failure error al driver video smesso di riprendere e stato ripristinato ma va a cagare